Sì, l'ho definito il primo giorno di scuola, ma sarà un crescendo poi verso la modernità anche per dar corso a quello che prevedevano già i padri costituenti nella Costituzione Repubblicana del 1948, non parlo poi del titolo V del 2001. Direi che è una scelta di modernità, di responsabilità e non è assolutamente l'affamare le regioni del Sud, dividere l'Italia o altri discorsi che ho sentito che non c'entrano nulla con la realtà. Mi spiace vedere che ancora ci sia qualcuno che sostiene che questa sarà la fine del nostro Paese, non sarà così, basti pensare che Germania, Stati Uniti vengono percepiti come grandi nazioni non divise, ma hanno federalismo veramente vero. A me interessa dire che il Quirinale, il Capo dello Stato, non ha mai negato questa opportunità. Ricordo che noi siamo andati a referendum, un referendum secondo qualcuno abusivo, illegale, grazie a una sentenza della Corte Costituzionale. Questo la dice lunga sulla legalità del nostro percorso.